Agosto sotto le stelle al Magic Hotel ad Atena Lucana, dal 16 al 20 agosto, in piccolo maloriginale nona edizione della Festa della Birra, direttamente dall'Offbry House di Monaco di Baviera, fiumi di birra e gastronomia bavarese. Il Magic Hotel vi aspetta in via nazionale ad Atena Lucana Scalo per brindare insieme Ayn Prosit, infoline 348 39 73 163, seguici anche su Facebook e Twitter.